Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Colpo Gobbo Oggi un breve video perché voglio fare un appello Voglio chiedere a tutti voi un gran favore Iscrivetevi mi raccomando al nuovo canale di VB Channel Sì, probabilmente il vecchio verrà chiuso a causa di pochi idioti Che hanno fatto delle segnalazioni idiote Perché ormai ragazzi i canali così ce ne sono tantissimi Tantissimi sul web Basta che ognuno stia nel suo e non succedono queste cose Per cui il nostro amico VB Channel è stato costretto a creare un nuovo canale Dove caricare appunto i suoi contenuti Però il nuovo canale ovviamente parte da zero Siccome lui fa un gran lavoro perché consente a tutti noi juventini Che magari non abbiamo l'abbonamento alle PTV e così via Di rimanere aggiornati quotidianamente Su tutto ciò che riguarda la Juventus, il mondo Juve in generale Quindi le trasmissioni più importanti Veramente fa un gran lavoro Voi iscrivendovi al nuovo canale trovereste questi contenuti Quindi mi raccomando andate sul suo canale Iscrivetevi, campanellina Così rimarrete aggiornati veramente giorno per giorno Su tutto ciò che accade attorno alla nostra squadra Poi volevo aggiungere un altro paio di cose Io vi do appuntamento a stasera Con la live con il Marchese Bianconero In cui parliamo di mercato, plus valenze Di tutto ciò che riguarda la sfera economica Che è legata alle transazioni dei calciatori e al calcio mercato Mi raccomando sarà molto interessante Lui è molto preparato su questo aspetto Io diciamo che mi diverto e mi appassiona Per cui sarà una live piacevole E avrò il piacere poi di interlocuire con voi Assieme al Marchese Potrete farci tutte le domande inerenti a questo aspetto Noi saremo disponibili a rispondere Porteremo veramente dei casi concreti Mi raccomando è una live da non perdere Ed è anche l'occasione per scaldare i motori In vista della grande live di questo canale Di venerdì alle 19.30 Ragazzi Ripeto Andate e iscrivetevi sul canale di VB Channel Perché veramente fa un gran lavoro E questo lavoro va premiato in un certo modo Io mi fido di voi Mi raccomando Ragazzi vi saluto Vi do appuntamento a stasera E fino alla fine Forza Juventus